In ripresa non senza difficoltà l'olio extravergine di oliva delle Marche. Sono ottimisti gli olivicoltori marchigiani in vista di una campagna 2020 che si sta lentamente riavvicinando all'ottima performance del 2017, oltre 5.400 tonnellate dimezzate l'anno successivo dalle anomalie del meteo di primavera. Da nord a sud della regione, a seconda delle zone, si stima per quest'anno un recupero tra il 60 e l'80% rispetto al dato positivo del 2017. È quanto affermano da April Marche, l'associazione dei produttori olivicoli marchigiani, che nei giorni scorsi ha radunato aziende frantoi per presentare un nuovo prodotto adatto per le coltivazioni biologiche per proteggere le piante dai parassiti. Si tratta della farina di basalto, prodotta dalla polverizzazione della roccia vulcanica. Studi e statistiche, spiega Pierluca Federici, presidente di April Marche, dicono che questo prodotto potrebbe essere un'opportunità sia per le imprese sia per chi coltiva olio per autoconsumo. Al momento anche noi la stiamo testando, ma la farina di basalto potrebbe davvero rappresentare una svolta e un'alternativa per chi lavora in biologico. Nelle Marche, lo ricordiamo, ci sono oltre 13.000 olivicoltori, un ettaro su 5 dedicato al biologico, 175 frantoi e 2 di denominazione di origine a sottolineare l'alta qualità del prodotto.